A Secchiano per la terza giornata si affronta la nuova fete 2M. La formazione ospite dista 4 lunghezze da giallobru, già scesi in campo in questo 2022 con il recupero vinto 7 giorni prima con l'ASAT. Una partita che riserva a nuova fete la seconda gara consecutiva tra le Muramiche, forte e di una spinta in più dettata dai propri ultras e dal pubblico delle grandi occasioni. Anche oggi al comunale tantissime unità presenti. La gara però non rispecchia la bellezza vista sugli spalti. Nambio e Nyang prova di infiammalla con un rasoterra insidioso bloccato da Golinucci. I biancorossi ospiti rispondono dalla bagnerina. Ravaglia, Pennella per Mazzoli, Andreani fa buona guardia. L'ex Sant'Arcangelo si ripete bloccando la debole concursione a cura di Giacobi. La 2M crea l'illusione del gol con questo gran tiro dalla distanza di Montesi che termina di un nulla a lato. Da dimenticare invece quello che avviene poco dopo a cura di Giacobi con la sfera che termina altissima. Il nuovo affete va vicinissimo a bersaglio quando Nyang, dalla bandierina da fuori ari, inventa una sventola che per poco fa venire giù lo stadio. Gran tiro da parte del centrocampista giallobru che avrebbe meritato sicuramente miglior sorte. Invece la punizione in chiusura di tempo decreta la fine della cazza al piccione. Scoordinato al momento della battuta, il centrocampista questa volta sbaglia alla mira. L'inizio di ripresa non è dei migliori. I biancorossi cercano di colpire con Averardi mentre il nuovo affete dall'altra parte viene stoppato sul più bello dal fisco del diritto di gara. Radici va via all'avversario secondo il giudizio arbitrario e commetterebbe fallo sul proprio marcatore. Diviene dunque vano lo scatto di Baldinini lanciato in porta. protesta il giallobru che proseguono. Al 22 l'episodio che decide il match da punizione di Golinucci un centrale difensivo del nuovo affete accolpisce in area di rigore il pallone con il braccio. Per il direttore di gara trattasi di penalty. Il replay prova ad aiutarci dato che i fumogeni disturbano la visuale. dal dischetto Tajoli non sbaglia spezzando Adriani dando ai suoi tre punti fondamentali. Tra l'altra parte proteste per lo sconto tra radice ne ho entrato Mingozzi. Anche in questo caso ci avvaliamo del replay. Lo stesso Radici prova la via del gol ma alza decisamente la mira. In contropiede gli ospiti sfiorano il raddoppio nel finale con Rossi ed infine Andreani è bravo a chiudere in uscita su Averardi. Termina qui una gara dove tra andate e ritorno decidono due rigori. All'andata l'1-0 ospite fu firmato dal dischetto da Domini. A ritorno l'1-0 ospite dagli 11 metri da Tajoli.